Quest'oggi siamo qua in Galleria Manzoni, un comparto che merita più rispetto della nostra città. Riteniamo che un'amministrazione attenta debba sviluppare delle azioni per far sì che i cittadini, i baresini per bene possano riappropriarsi agli spazi urbani che oggi sono lasciati al degrado e all'incuria. L'idea di trasferire gli uffici della burocrazia municipale nella caserma Garibaldi vanno proprio in questa direzione. Cercare di appropriarsi gli spazi urbani, in cui anche la Galleria Manzoni insiste, appunto è presente, per cercare di stimolare il commercio, per stimolare l'attività, per stimolare le persone e i cittadini che vogliono vivere la città in serenità a viverla a punto. Crediamo che solamente spostando e trasferendo funzioni pubbliche possiamo far sì che la città inverta questa tendenza, è una tendenza che purtroppo ha fatto sì che le attività commerciali si riverperassero solamente sulle quattro strade del centro storico, lasciando degli spazi totalmente vuoti e sappiamo benissimo che quando c'è un vuoto, sostanzialmente viene colmato da persone poco raccomandabili. Quando ci sono persone poco raccomandabili, le persone presentano qui.